Ficchiatevi! Ma adesso che fai? Stai un po' casati! Abbiamo ospiti! Eh? Dai dai, aggredite! Ma no, ma non si ficchiano più! Non è bello! Non è bello! Vieni, che sono pure le bestie feroci a andare a fare l'ingiro! Uh uh uh! Uh uh uh! Uh uh uh! Uh uh uh! Il nostro prode pecora nera! Capito? Bene l'antifona ha deciso di scegliere la pozzanghera opposta a quella che avevo scelto io! Sì! Con ciò combinando una grossa stronzata in quanto qua si va sotto, non so, penso 70-80 cm Però ci sono i testi quelli da... Può darsi che ci sia anche qualche alligatore! La moto mi ha risentito a suo modo anche se come potete vedere non è un gran problema insomma la moto è fatta per andare in moto Ma tu registri? Certo, certo, sto registrando Sì, poi dovremmo alterare la targa perché questo questo fatto di frequentare gente con la moto rubata questo vedete telaio artefatto Anche io sono un po' stalker ma che sorta Dunque tu presenti ecchimosi Ah Vabbè Questa è gente che ha quanti anni guardate il panorama Siamo quasi arrivati disse le ultime parole famose e adesso tocca a te disse le ultime parole famose questo sarebbe il momento di fumare Siamo gas gas destreggia sul prato in realtà il proprio è finto e tutto quanto cemento ma lui sarà troppo complicato potente c'è il canale giuli il canale si guarda c'è un puntalino che guarda questo mi permetterà per lavoro un puntalino che è un ospizio a guardarsi